What's up a tutti ciurma e benvenuti da Giocherina in questa nuovissima recensione. Ebbene oggi ragazzi vi andrò a parlare di un film del 2024 perché è stato pubblicato nei cinema appena una settimana fa. Sappiamo tutti benissimo di che film sto parlando, sto parlando ovviamente ragazzi di Joker Folie a Deux. E devo essere sincera ho tuttora un bel po' di confusione che mi vaga per la testa e di perplessità. Confusione che non riesco ancora a fermare e alla quale non riesco ancora del tutto a trovare un senso dopo la visione del film. Perché sono stata al cinema ieri sera ragazzi e a parte che a meno di una settimana della pubblicazione comunque appena una settimana dalla pubblicazione ragazzi sinceramente pensavo di trovare al cinema un pochettino più di gente per quanto riguarda questo film. Perché comunque è vero io ci sono stata di martedì quindi è ovvio che magari non tanta gente ha voglia di andare al cinema martedì magari si preferisce il fine settimana. Però comunque si trattava anche ragazzi di uno spettacolo che era ad un orario abbastanza accessibile cioè non è che era l'ultimo spettacolo della serata anche perché non ne fanno perlomeno da noi più di spettacoli tipo in seconda serata. Quindi era lo spettacolo delle 21 e essendo passato poco tempo appunto dalla data di uscita pensavo sinceramente di trovare un pochettino più di folla. Invece effettivamente ragazzi la sala non era neanche mezza piena cioè io penso ci fossero al massimo tipo una ventina di persone o poco meno di 30 ragazzi. Quindi già questa cosa mi ha dato un po' da pensare perché questo film comunque ha fatto già tanto parlare di sé ancora prima di essere pubblicato. Come di questi tempi ragazzi succede un pochettino per qualsiasi cosa solitamente alla gente piace parlare moltissimo ancora prima di ritrovarsi di fronte al prodotto finito. Ma questo lo vediamo con tutto prodotti videoludici cinematografici artistici di qualsiasi tipo ovviamente. E quindi ha fatto molto parlare di sé perché era già stato reso noto il fatto che questo film sarebbe stato un musical. Ragazzi sappiamo tutti molto bene che secondo me la maggior parte della gente non apprezza i musical anzi li detesta letteralmente. Devo dire che io personalmente non amo molto i musical anche se non mi lascio mai prendere ragazzi da pregiudizi o cose simili nel senso che per quanto magari non ami musical non mi privo mai magari della possibilità di guardarne qualcuno anche se poi magari ritengo che non mi sia piaciuto. Quindi ci sono diversi musical che apprezzo e tra l'altro ragazzi essendo amante dei film animati della Disney sarei una bugiarda a dire che mi fanno schifo i musical perché sappiamo benissimo come sono sempre costellati di canzoni e quindi forse per questo che non parto mai prevenuta riguardo i musical. Ma appunto generalmente è un genere che le persone detestano chi più chi meno. Quindi già quando questa notizia ragazzi è stata divulgata il pubblico ha iniziato a svalvolare un po'. Perché? Perché ragazzi questa scelta è stata una scelta a mio avviso estremamente azzardata e quindi già da lì ragazzi le persone hanno iniziato a dire no sicuramente sarà una cagata no io non andrò a vederlo. Quindi già così di partenza secondo me il film è partito appunto svantaggiato anche se non so sinceramente se tutta la gente abbia capito che effettivamente questo sia un musical per quanto questa sia la notizia che ha fatto più scalpore prima che il film uscisse. Dopodiché ha fatto parlare molto di sé perché comunque come coprotagonista è stata scelta Lady Gaga che ragazzi come attrice non è apprezzata appunto dalla maggior parte delle persone e quindi anche lì è partito un po' svantaggiato secondo me perché le persone hanno detto no ma questa che c'entra ma perché di qui di là siccome musical dovevano scegliere magari per forza una che sapesse cantare forse c'entra anche quello. Ma questo film ragazzi non ha avuto di partenza i presupposti positivi che ha avuto il primo perché comunque il primo ragazzi era un qualcosa di nuovo un qualcosa che ha estremamente incuriosito il pubblico perché comunque ci dava la possibilità di esplorare una nuova versione e visione di quello che è il personaggio del Joker. Il primo film ragazzi ha avuto un successo immenso un successo veramente enorme io se non sbaglio credo che abbia raggiunto un miliardo di dollari di incasso se non erro probabilmente uno dei film forse di cinecomic perché comunque è stato definito così con l'incasso forse più alto di sempre se non sbaglio. Quindi ha avuto un successo veramente planetario ragazzi e un successo economico veramente incredibile pazzesco. E quindi già poco dopo l'uscita del primo film le persone si chiedevano chissà se gli verrà mai in mente di fare un sequel. Io penso che la domanda fosse un pochettino scontata e retorica perché visto il successo del primo io penso fosse abbastanza chiaro ragazzi che avrebbero deciso di farci un sequel perché comunque le case produttrici appunto non sono enti di beneficenza sono case produttrici che mirano all'incasso. Quindi diciamo che hanno voluto fare questo sequel perché contavano sul fatto che il nome fosse quello ovviamente Joker con Phoenix ha avuto un successo assurdo riproviamoci no anche se probabilmente ragazzi ci hanno creduto un po' troppo tra virgolette ma adesso ne parliamo. Io vi avviso molto probabilmente questa recensione sarà un po' lunga perché come sempre ragazzi io non mi sono preparata alcun discorso non mi sono preparata neanche una scaletta perché stavo ancora cercando di riorganizzare le idee nella mia testa e quindi probabilmente straparlerò come sempre. Quindi preparatevi prendetevi una che ne so una coca cola delle patatine. Quindi io penso che la prima domanda che sorge è ne avevamo davvero bisogno? C'era davvero bisogno di questo sequel? Io credo che la maggior parte della gente risponderebbe di no e io sono fra quelle persone perché tutti voi sapete quanto io abbia amato cioè proprio alla follia adorato il primo film ed era ragazzi è un film che è assolutamente autoconclusivo non penso di essere l'unica a pensarlo perché ho letto spesso questo parere in giro sui social. Era un film che finiva lì che ti dava tutto quello che ti doveva dare tra virgolette sul personaggio sul suo sviluppo e su quella su quella visione di Joker perché secondo me ragazzi allora già il primo film era un azzardo da diversi punti di vista. perché comunque prendi uno dei personaggi sicuramente più iconici e più importanti non solo della DC secondo me ragazzi proprio dei fumetti in generale una figura che in un modo o nell'altro ragazzi chiunque ha sentito nominare che ha davvero appunto un'importanza grandissima per il mondo dei fumetti. Quindi prendi un personaggio del genere e vuoi parlarne secondo la tua visione e appunto per questo dico che già il primo film era un azzardo e infatti già il primo film aveva comunque suddiviso la critica se non sbaglio perché non a tutti è piaciuto. Nonostante il suo successo molte persone lo hanno criticato perché probabilmente hanno seguito proprio quella con la corrente di pensiero di questo non è Joker. Ok questo film parlando del primo non parla di Joker ma seguendo la visione che hanno voluto ragazzi mettere sul grande schermo è un film fatto da Dio. E secondo me che parla in un certo qual modo appunto di Joker ok io avevo fatto una recensione del primo film avevo approfondito ovviamente molto di più il discorso in quel video lì quindi non voglio ripeterlo adesso perché siamo qua appunto per parlare di questo sequel di cui per ricollegarci all'argomento di prima non c'era assoluto bisogno. Hanno voluto farlo lo stesso e già quando decidi di fare un sequel di un film che ha avuto un successo così grande già li rischi perché non è mai facile riuscire a tenere il tenore del primo quindi riuscire a restare sulla stessa lunghezza d'onda del primo che magari è quella che appunto gli ha dato tutto quel successo e reinventarti in qualche modo perché comunque essendo un sequel si deve inventare qualcosa di nuovo restando sulla stessa lunghezza d'onda e quindi cercando di far sì che anche quel qualcosa di nuovo abbia quello stesso successo e quindi già il fatto di fare un sequel di un film che ha avuto un così grande successo è un azzardo grandissimo ragazzi però c'è chi questo azzardo e questo rischio lo vuole correre è ok però secondo me hanno azzardato ancora di più con l'idea di farne un musical. Perché? Io credo che questa sia la seconda domanda grandissima proprio gigantesca che viene in mente a chiunque credo guardi questo film anche se so che ci sono molte persone che lo hanno apprezzato quindi allora prima di continuare molto probabilmente vi starete chiedendo ma quindi che stai cercando di dirci film ti è piaciuto o non ti è piaciuto facciamo quindi una piccola anticipazione sul mio parere ragazzi il film mi ha lasciato estremamente perplessa io credo che mi sia piaciuto per certi versi e non mi sia piaciuto per altri versi e credo che sia così anche per diverse persone per quanto invece tantissime ragazzi lo boccino a prescindere nonostante tutto e ci sono stata a pensare ragazzi cercando di capire diverse cose e tante cose e credo pure di essere arrivata a certe conclusioni ma generalmente per me ragazzi è un ni o uno sno non lo so mi sento molto combattuta molto divisa io riguardo questo film ragazzi quindi la seconda grande domanda che sorge è perché farne un musical dopo che il primo ovviamente non lo era un film del genere secondo me ragazzi non ne ha assolutamente bisogno nel senso non è il suo genere il primo non era di quel genere perché già stai correndo il rischio di fare un sequel perché correre il rischio ancora più grande di utilizzare il musical non lo so ragazzi veramente mi sto facendo tante domande e più ci penso più mi confondo io credo ragazzi che la trovata del musical sia solo una specie scusa o non lo so forse hanno voluto tirarsela talmente tanto da dire riusciamo a farvi un sequel degno del primo film e ci ficchiamo dentro anche la componente musical per farvi rendere conto di quanto questo prodotto possa essere magnifico perché perché se la sono tirata ragazzi e pensavano di poter inserire la componente musical in maniera figa a me la componente musical di questo film ragazzi non mi è piaciuta non mi ha convinto per niente intanto altra piccola premessa ragazzi non ci saranno spoiler perlomeno se dovesse arrivare il momento degli spoiler sarà separato da questa parte di recensione e vi avviserò quindi state tranquilli questa componente non mi è piaciuta ragazzi perché perché non so sinceramente se loro davvero credono di aver fatto un ottimo lavoro da questo punto di vista perché ragazzi questo film in generale è un film che secondo me è estremamente pretenzioso è sbagliato già questo c'è già in partenza allora sbagli perché il fatto che sia joker non ti dà la certezza e la sicurezza che il prodotto finale pensato in un certo in un certo altro modo dia il risultato che ha dato il primo ok e quindi ci hanno ficcato questa componente musicale secondo me pensando forse anche di fare un bel lavoro perché se no non lo avrebbero lasciato così alla fine però ripeto questo è un parere puramente soggettivo magari qualcun altro penserà che invece la parte musical è fatta bene e quindi hanno lasciato il tutto così ma ragazzi secondo me cioè non c'entra assolutamente una mazza come molti avevano già previsto prima che il film uscisse ma a me già ragazzi l'idea che fosse un musical non mi aveva fatto impazzire ma come credo a chiunque anzi mi ha fatto pensare ma che minchia fate che state facendo però nonostante tutto non sono voluta andare prevenuta ho voluto comunque guardarlo al cinema questa componente ragazzi mi ha fatto letteralmente cadere le braccia a terra per non dire qualcos'altro in effetti perché tra l'altro ragazzi allora questo film si viene definito anche un musical ma secondo me non è un musical è un film in cui hanno inserito ogni tanto ogni tanto neanche tanto in cui da un certo momento in poi hanno inserito delle canzoni così e adesso vi spiego che significa così e quindi non è un musical perché ragazzi i musical sono costruiti in tutt'altra maniera il musical ruota proprio attorno alla musica ruota proprio attorno alle canzoni quindi ci sono canzoni ogni due per tre ma si sa sono musical ma il punto è che nei musical comunque attorno alle canzoni ruota tutto il film quindi ruota qualsiasi elemento del film non so se riesco a spiegarmi quando c'è una canzone in un musical a ruotare attorno a tutta quella canzone ragazzi c'è tutto il resto del film tutto il contorno quindi non solo chi sta interpretando la canzone in quel momento ma anche tutto il contorno appunto tutto ciò che c'è intorno attori scenografie costumi cioè e coreografie soprattutto quindi ha senso tra virgolette che ci siano le canzoni perché ci costruiscono attorno pure le coreografie invece in questo film questo non succede ci sono queste canzoni e ragazzi a volte sembra che siano messe completamente a caso a me ha dato come l'impressione che ce le abbiano messe in certi momenti perché sì perché era stato detto che era un musical e quindi ogni tanto sta canzone ce la ficchiamo perché sì senza tanto un senso logico effettivamente anche se poi penso che ne parlerò una parte spoiler io penso di aver trovato una sorta di collegamento a questa questione delle canzoni però ne parlerò dopo e quindi per quanto uno possa trovare un collegamento che abbia un senso in questo film a queste canzoni al fatto che cantino cioè è stata fatta proprio male regà la componente musical la parte che a prescindere non avrebbe dovuto esserci su questo stiamo d'accordo ma visto che ce l'avete voluta mettere per forza fatela bene fate in modo che il momento in cui ci sono queste canzoni abbia un senso invece no ci sono ragazzi dei momenti in cui semplicemente si mettono a cantare ma così a caso cioè capite che vi voglio dire non lo so non ha un senso non ha motivo di esserci questa componente qua in questo film e a me non è piaciuta per niente lady gaga ok bravissima grazie a sta gran ceppa è una cantante vorrei pure vedere ma tra l'altro queste canzoni ragazzi sono completamente qual è il termine giusto che posso usare scialbe penso che sia il termine corretto sono completamente scialbe cioè non sanno di niente non c'è una canzone che ti rimanga in testa e che ti faccia dire wow sto momento in cui stanno cantando me gasa tantissimo solitamente magari è questo che succede nei musical no anche perché non hanno senso di essere in quei momenti e quindi tu invece che stare lì a dare attenzione alla canzone a quello che si dice anche se poi ovviamente i sottotitoli li leggi stai lì a pensare ma perché questi si sono messi a cantare perché in questo momento che c'entra c'è il contesto perché quindi non c'è mezza canzone ragazzi che ti colpisca più di tanto secondo me assolutamente poi phoenix è stato bravo devo dire dal punto di vista musicale glielo si deve riconoscere lui non è un cantante però devo dire si è sforzato l'hanno preparato bene stato bravo ci sta ma principalmente ragazzi sappiate che le canzoni sono interpretate soltanto da lui e da lady gaga sono loro due quando invece solitamente come vi dicevo prima nei musical anche più personaggi cantano cioè non per forza solo il protagonista e il coprotagonista ci sono momenti in cui anche personaggi secondari si mettono a cantare invece qua no ruota tutto attorno a loro due e posso anche capire può avere un senso comunque sono i protagonisti nasce questa storia d'amore fra di loro ci sta però in certi momenti ragazzi l'ho vista un po patetica come cosa sinceramente e arriva un momento ragazzi nel film dopo la prima metà del film che ti cade tutto veramente a terra cioè vorresti soltanto che la smettessero di cantare perché ci si ricollega tutto quello che ho detto fino ad ora ragazzi perché non ha un senso perché non hanno contesto le canzoni perché le canzoni fanno abbastanza cagare sono anche abbastanza cringe in certi momenti se vogliamo essere sinceri e quindi arrivi alla fine che non ce la fai più e che vorresti soltanto che la smettessero di cantare e questo musical non dovrebbe farlo però ripetiamo non è un musical e quindi questa parte qua del film ragazzi a me ha fatto veramente cagare però nonostante tutto ho voluto dare un'opportunità al film cos'altro non mi è piaciuto di questo film ragazzi? il fatto che io nella storia che viene narrata in questo sequel non ci ho visto uno scopo non ho visto nulla principalmente mi ha dato come l'impressione ragazzi che il film non parta mai cioè la storia non abbia mai davvero inizio come se volessero raccontarti qualcosa in più che però non ti raccontano mai fondamentalmente e quindi io penso che probabilmente molte persone tra cui io arrivino alla fine del film pensando ok ma dove volevamo andare a parare? che poi sicuramente il regista chiunque abbia scritto il film abbia la sua visione chiara dello scopo di questo film ok ma chiederei gentilmente ai capoccioni di spiegare il senso lo scopo di questo film un po' a tutti noi profani che non arriviamo a leggere quella visione lì perché cioè se c'è perché a questo punto mi chiedo se c'è ma probabilmente c'è è talmente nascosta che è difficile da interpretare effettivamente anche se sono stata a riflettere pure su questo ragazzi e credo che una sorta di senso gliel'ho trovato ma cioè la conclusione a cui sono arrivata non mi convince per niente mi è dispiaciuto da morire ragazzi di questo perché io penso che sicuramente uno da un sequel si aspetti di ripartire ovviamente da dove ci si è lasciati alla fine del primo che si è arrivati a un certo punto a una certa conclusione del personaggio della storia di questo personaggio e quindi si riparta da lì e in qualche modo ci si evolva no? si vada avanti tra l'altro volendo introdurre anche un nuovo personaggio che dovrebbe affiancarlo non mi è piaciuta ragazzi la storia anche perché cioè effettivamente parlando io una vera storia non l'ho vista cioè non c'è secondo me un chissà quale senso logico temporale da seguire in questo film sia parlando di eventi sia parlando di magari evoluzione dei personaggi io non ho visto niente di tutto questo ragazzi sono rimasta molto perplessa anche da questo punto di vista estremamente delusa perché pensavo e speravo forse che in questo sequel nonostante la presenza della coprotagonista che devo dire sinceramente ragazzi a me l'idea già un po' mi disturbava perché perché sì ma poi ne parliamo speravo appunto che questo film si concentrasse quindi su Arthur Fleck ma su Joker e che portassero il personaggio a un'ulteriore evoluzione in qualche modo un'ulteriore evoluzione come Joker penso che questo ragazzi fosse il desiderio di un po' tutti perché? perché appunto il primo film era finito in un certo modo quindi tu ti aspetti di vedere magari qualcos'altro non sai cosa ma ti aspetti di vedere qualcosa di veramente epico magari riguardo questo personaggio che possa essere ancora più epico di quello che si vede nel primo perché comunque il primo ragazzi ci raccontava della nascita di Joker che poi generalmente nel film si parlava del Joker più che altro come una idea tra virgolette del fatto che il Joker rappresenti magari anche generalmente più nei fumetti ma comunque nel film una corrente tra virgolette quindi della nascita di Joker da quel punto di vista ma anche per quanto riguarda il personaggio di Arthur Fleck perché alla fine si capiva benissimo che era nato Joker e quindi ti aspetti che vadano oltre quello invece qui questo non succede non succede io non so tanto ragazzi quanto spingermi oltre a dirvi perché non vorrei fare spoiler però qui questo non succede questa cosa mi ha estremamente deluso perché io sinceramente ragazzi speravo si inventassero qualcosa di nuovo riguardo questo personaggio che lo mettessero magari anche in contesti in cui non aveva avuto la possibilità di ritrovarsi nel primo film che quindi lo rendessero Joker a tutti gli effetti dall'inizio ok che quindi sviluppassero in questo modo ancora di più il personaggio purtroppo questo non avviene anzi il film ti lascia interamente perplesso perché dici ma che sta succedendo che sta succedendo e poi ne parliamo ragazzi quindi estremamente deludente da questo punto di vista per quanto riguarda poi la coprotagonista ragazzi vi dicevo che a me l'idea che ci fosse un personaggio femminile come coprotagonista non mi faceva impazzire perché perché ragazzi ok che il titolo già dice folia 2 è proprio insomma il modo in cui viene chiamato se non sbaglio una sorta di patologia mentale in cui magari due persone condividono lo stesso problema mentale o forse uno lo trasferisce all'altro adesso non ricordo quindi gli hanno dato questo nome approfittando del fatto che si parli di una patologia mentale e che in questo film ci abbiano inserito questa bereretta figura femminile che diciamocelo ragazzi oggi ci ha stracciato veramente un pochettino le balls permettetemi di dirlo perché perché cioè perché che fai fai un altro film su Joker siccome nei fumetti Joker c'ha la compagna che Harley Quinn che però diciamocela tutta ragazzi secondo me rimane comunque sempre un personaggio un po' secondario nel senso che la figura primaria è quella di Joker che ok ha come compagna Harley Quinn ma rimane una figura secondaria ok che tra l'altro è lei ad essere una sottona tra virgolette nei confronti di Joker e Joker che è sempre comunque ragazzi lì che spicca in questo film ce l'hanno dovuta mettere per forza perché sì perché dobbiamo far vedere che comunque anche una figura femminile ok può essere di spicco e può andare di pari passo con un personaggio che abbiamo creato come questo Joker ok quindi ce l'hanno dovuta ficca per forza e va bene a me quindi già questa idea sinceramente mi aveva fatto girare parecchio le palle però vabbè da una possibilità ok sto personaggio ragazzi che avete voluto costruire un personaggio femminile che fosse iconico quanto il Joker di Phoenix del primo film ma che avete costruito diciamocela sinceramente un personaggio che non sa di niente ragazzi in effetti Lady Gaga è stata brava ma che non so se cioè dipende dal fatto di come probabilmente entrambe le cose entrambe le cose il fatto che comunque Lady Gaga non sia un'attrice e si sforzi ok magari a volte riesce a volte riesce di più a volte riesce di meno va bene e anche collegato al fatto di come forse sto personaggio sia stato scritto ragazzi scritto male cioè scritto in maniera insignificante cioè a me non mi ha dato niente sinceramente sta Harley Quinn che poi da Harley Quinn secondo me c'ha niente perché comunque pure il personaggio di Harley Quinn è un po' iconico a modo suo per quanto in maniera secondaria ok sta Harley Quinn ragazzi a me non mi ha saputo di niente sinceramente soltanto una che si è presa una specie di cottarella anche se nel film parlano di grande amore così improvvisamente ragazzi sti due non è uno spoiler perché se capisce comunque dai trailer sti due si innamorano follemente così da un momento all'altro pure sta cosa mi ha fatto storcere un po' il naso che scatta sta scintilla impressionante perché lei comunque secondo me si era presa sta sorta di cotta per Joker e quindi fa in modo di avvicinarsi a lui e lui probabilmente allora sì vabbè parliamo di amore folle regà parliamo comunque di persone che di regola hanno problemi mentali quindi diciamo che forse vogliamo giustificarla un po' così però il fatto che lui forse si innamora così tanto di lei perché finalmente qualcuno lo vede lui usava spesso insomma questa espressione nel fatto che la gente finalmente lo notasse quindi evidentemente per sto motivo qua però per ritornare a Harley Quinn regà insignificante scialba pure lei come le canzoni che secondo me tra l'altro non c'è manco tutto sto senso di esistere come avevo immaginato l'hanno messo perché sì e forse c'è anche un senso noi ritorniamo al fatto che forse un senso ce l'avrei trovato ma sinceramente regà un po' inutile un po' tanto inutile anzi oserei aggiungere non sa di niente veramente di niente quindi altro aspetto che non mi è piaciuto del film perché sinceramente io dai trailer pensavo che dai trailer si vincevano tante cose ragazzi o perlomeno pareva si vincessero tante cose che in effetti sto film non ha fatto veramente mi aveva dato delle buone impressioni per quanto avessi comunque ancora delle perplessità e per quanto riguarda altri aspetti che non mi sono piaciuti io penso che principalmente gli aspetti che più mi abbiano causato delusione ragazzi siano questi per quanto riguarda quindi generalmente il resto del film e generalmente alcuni aspetti che mi hanno convinto o che forse ragazzi in qualche modo mi abbiano causato un po' tenerezza tra virgolette un po' di nostalgia in ricordo del primo film i film ragazzi generalmente secondo me o perlomeno io non posso dire che sia un film completamente da cestinare perché Sara è una bugiarda ci sono alcuni aspetti del film che mi sono piaciuti molto tipo la regia la fotografia cioè esattamente come nel primo questi due aspetti sono secondo me assolutamente meravigliosi la fotografia soprattutto ci sono certi momenti ragazzi certe scene certe inquadrature hanno una luce una colorazione veramente bellissime e la regia pure mi è piaciuta veramente moltissimo ci sono anche alcuni momenti del film che mi sono piaciuti per quanto comunque purtroppo molto rari ma ne parlerò nella parte spoiler perché ragazzi hanno in qualche modo rappresentato quello che forse gli spettatori avrebbero voluto vedere in questo sequel quindi qualche elemento ce l'hanno anche ficcato raramente e quindi qualche momento del film mi è piaciuto anche e quei momenti mi hanno creato tante tante perplessità perché perché mi son chiesta per quale motivo non farlo ruotare attorno a questi momenti per quale motivo non costruirlo semmai su momenti come questi e altre cose che mi sono piaciute la colonna sonora mettendo da parte le canzoni la colonna sonora è bellissima ragazzi richiama moltissimo ovviamente quella del primo film in certi momenti ragazzi è praticamente uguale per questo che anche la musica oltre quei momenti di cui parlavo un attimo fa mi ha creato ragazzi un'emozione strana dentro in alcuni attimi di film perché senti quella musica e ripensi a quanto fosse figo il primo film e e ci rimani male ragazzi ecco io ci sono rimasta male perché magari cioè come mi sento adesso per questo vi dicevo mi sento un po' divisa perché a questo punto avrei preferito che tutto il film fosse una merda ragazzi sinceramente perché magari mi sentirei meno male di come mi sento adesso meno delusa e la delusione è una cosa bruttissima secondo me quindi la colonna sonora bellissima canzoni a parte cos'altro mi è piaciuto phoenix io sono di parte un po' di un po' pochettino di parte tanto di parte va bene perché è uno dei miei attori preferiti in assoluto ma lui lo amo ragazzi nonostante comunque abbiano inserito di nuovo questo personaggio in un contesto che secondo me non gli ha dato la possibilità di brillare da certi punti di vista io lo adoro la sua interpretazione mi è piaciuta tantissimo nonostante comunque diversi magari dicano che il personaggio è stato un pochettino esasperato tra virgolette portato all'esagerazione all'esasperazione quindi come se fosse diventato una specie di parodia del personaggio del primo film io non sono d'accordo perché lui è sempre regà immenso grandissimo quindi lui l'ho amato profondamente uno dei pochi aspetti di questo film che mi sono piaciuti e credo che abbia fatto veramente un grandissimo lavoro probabilmente in questo secolo era ancora più difficile interpretare Arthur Fleck barra Joker ci è riuscito alla grande secondo me in entrambe le facce della stessa medaglia per quanto riguarda il resto ragazzi posso dire pochino magari sulle scenografie eccetera eccetera perché purtroppo come anche se vincere i trailer quindi non è tanto uno spoiler ragazzi principalmente il film avviene all'interno di luoghi chiusi quindi prigione barra tribunale quindi dal punto di vista scenografico regà c'è da dire secondo me poco e niente perché purtroppo si vede poco e niente però credo di di non poter dire altro sulle cose che mi sono piaciute e quindi ragazzi generalmente questo film mi ha deluso purtroppo per quanto io mi sia sforzata di non andarci prevenuta per quanto io mi sia sforzata comunque di cercare di capire la visione del regista per quanto io mi sia sforzata di apprezzarlo nonostante tutto generalmente è stato più una delusione che altro ragazzi questo film come hanno detto diversi sui social un'occasione sprecata assolutamente e dispiace a me dispiace tanto ragazzi a maggior ragione tra l'altro per il finale di cui non parlerò adesso quindi state tranquilli ma ciò è rimasta molto male non posso dire altro quindi se vi state chiedendo ma quindi joke consigli di andarlo a vedere non consigli di andarlo a vedere visto che per te è stato più una delusione che altro visti tutti gli aspetti di cui ci hai parlato io comunque a prescindere ragazzi quello che dico sempre non lasciatevi comunque influenzare dalle opinioni altrui come ho fatto io ad esempio perché già avevo letto diversi pareri negativi che stavano massacrando questo film nonostante tutto lo sono andata comunque a guardare al cinema se vi piace il cinema se vi è piaciuto il primo film non vi è piaciuto comunque siete curiosi andate comunque a guardarlo al cinema datevi un'occasione di guardarlo al cinema perché magari nonostante tutti i pareri negativi poi a voi piace e vi siete dati quindi l'opportunità di guardarlo sul grande schermo che è un'opportunità che secondo me ragazzi non dovremmo mai di cui non dovremmo mai privarci se siamo curiosi riguardo un determinato film quindi nonostante il mio parere pressoché negativo andatelo a guardare datevi questa opportunità e poi magari se non l'avete ancora guardato ne venite a parlare qua sotto se vi va e niente io non ancora mi riprendo tanto però vabbè allora io penso che la parte non spoiler sia finita quindi d'ora in avanti ragazzi penso che principalmente appunto saranno spoiler perché voglio parlare magari nello specifico di alcune cose e quindi quindi se non avete ancora guardato il film ragazzi potete interrompere qua il video io vi ringrazio comunque veramente di cuore per aver guardato la recensione e vi mando veramente un bacione un abbraccione quindi la parte spoiler inizia ora beh che dire ragazzi è complicato comunque anche fare la parte spoiler perché ho tante cose nella testa come vi dicevo inizio film e tante non me le ricordo ma ad esempio ragazzi allora questa questione della musica delle canzoni credo si ricolleghi a quello che forse questo film vuole significare quello attorno a cui questo film vuole ruotare perché comunque il primo film ragazzi ruotava attorno sia la nascita di Joker ma come avevamo ben capito non al Joker Joker come quello dei fumetti ma ruotava attorno al fatto che in chiunque magari in ognuno di noi può nascondersi un Joker a maggior ragione se sei una persona che ha subito magari dei traumi comunque Arthur Fleck è una persona ovviamente che ha problemi mentali chiarissimo questo è chiarissimo e vieni più volte nella tua vita traumatizzato abbandonato dimenticato tradito e maltrattato quindi il primo film faceva un gran lavoro da questo punto di vista ragazzi perché principalmente trattava di questo parlava di questo non tanto del Joker come Joker ma del fatto che come vi dicevo prima ruotava attorno al fatto che il Joker magari quella del Joker è più un'idea ok era una grande idea che però era stata sviscerata e sviluppata veramente molto bene e quindi il film ruotava attorno principalmente alla questione ragazzi della malattia mentale della questione attorno alla questione che magari persone più sensibili di altre possono vivere più intensamente certi traumi certe delusioni e certi maltrattamenti quindi quando poi queste persone vengono portate all'esasperazione perché era chiaro che il messaggio fosse che il mondo la società le altre persone ti portano a un livello di esasperazione tale che non riesci a controllarti più e ti stanchi di cercare di essere una brava persona una buona persona e dai sfogo completamente alle tue frustrazioni alla tua rabbia alla tua follia principalmente quindi era stato fatto un lavoro veramente greggio ragazzi da questo punto di vista e questo sequel in qualche modo secondo me vuole ruotare attorno di nuovo a questi aspetti di nuovo attorno alla questione della malattia mentale di nuovo attorno alla questione del subire certe angherie certi maltrattamenti del fatto che comunque la società in un modo o nell'altro ti abbandona del fatto che nessuno si prende le sue responsabilità quindi ruota attorno vuole ruotare vuole secondo me usiamo questo verbo vuole ruotare attorno di nuovo a questi argomenti quindi risfruttano la figura di Arthur Fleck che aveva avuto così tanto successo tra l'altro col primo film per cercare di sviscerare ancora più a fondo questo aspetto per quanto ragazzi in questo film il personaggio abbia una sorta di de-evoluzione non ho voluto entrare nello specifico una parte non spoiler ovviamente ma era quello che ci tenevo a dire nel senso che da questo sequel ragazzi la gente sarebbe aspettata di vedere un'ulteriore evoluzione di Joker non di Arthur Fleck perché era chiaro che alla fine del primo lui avesse completamente ceduto la propria esistenza alla personalità di Joker quindi a Joker al suo nuovo se in questo film purtroppo ragazzi per questo che è stata una grande illusione non succede che ci sia un'ulteriore evoluzione di Joker come Joker ma ci si concentra nuovamente in maniera secondo me quasi esasperante di nuovo su Arthur Fleck come persona malata di mente come persona che ha subito traumi indicibili nel corso della sua infanzia nel corso della sua vita e quindi c'è una sorta di de-evoluzione perché nel corso del film appunto succede che Arthur non riesce ancora a capire effettivamente se vuole davvero essere Joker o se essere semplicemente Arthur Fleck e questa è una cosa molto deludente perché ritorniamo a quello che ho detto un attimo fa era diventato Joker in questo film ce lo ripresentano di nuovo come una persona estremamente turbata da sé dal proprio vissuto dal proprio passato turbata da quello che ha fatto nel corso del primo film cose per cui viene appunto processato e il film ragazzi ruota completamente attorno a questa questione del processo e quindi non succede nient'altro fondamentalmente e quindi è una persona turbata da tutto ciò e che rinnega questa sua personalità di Joker alla fine pure questa è un'immensa delusione ma io credo che abbiano in qualche modo voluto appunto di nuovo ragazzi sviscerare come dicevo prima questa questione della malattia mentale ma secondo me non ce n'era bisogno non ce n'era motivo perché era una cosa che si era già conclusa nel primo film e che qua ritorna quindi ci hanno praticamente ragazzi riproposto la stessa identica minestra cercando di sfruttare altri elementi per renderlo un po' più buona tra virgolette ficcandoci magari ad esempio questa questione della musica ecco questa questione della musica secondo me non è stata messa completamente a caso perché è chiaro che non è stata messa completamente a caso ma come vi dicevo molto probabilmente ragazzi si ricollega sempre alla questione della malattia mentale perché c'è un certo momento in cui lui viene portato appunto in questo gruppo dove gli internati di insomma di Arkham vengono portati per condividere insieme momenti di musica e di canto e c'è appunto questo dottore che dice che lì usano la musica e il canto come modo per magari cercare di rimettere insieme i pezzi di sé o perlomeno ragazzi per cercare di affrontare in qualche modo i propri problemi io credo che tra l'altro siano cose proprio scientificamente utilizzate tra virgolette credo che la musica e il canto in questi casi siano veramente utilizzate ragazzi quindi la questione delle canzoni secondo me è collegata a questo il fatto che comunque durante il film queste canzoni ci siano però un po' in ogni momento mi ha lasciato un po' perplessa perché io avevo già collegato questa questione ho detto ah ok ci hanno inserito questa questione delle canzoni perché forse lui Arthur nella sua mente le usa per cercare di affrontare certi momenti per cercare magari pure di ricostruire un po' il proprio seno il proprio io quindi usa le canzoni nella sua mente per cercare di affrontare certe cose quindi avevo ricollegato a questo il punto della questione che queste canzoni non sono solo nella sua testa perlomeno a me ha dato questa impressione a parte che appunto canta anche lei che quindi questo personaggio viene inserito così e che canta anche lei quindi vabbè però ci sono dei momenti in cui è palese che Arthur si stia immaginando di cantare e quindi se avessero impostato le cose sempre così forse avrei pure potuto dire ok ci sta il punto è che non è così perché ci sono dei momenti nel film in cui sembra che siano nella vita reale ragazzi in cui siano nella realtà e si mettano a cantare così a caso e quindi questa cosa sulla parte musical mi ha particolarmente fatto sgranare gli occhi c'era il tipo che c'è che è stata a fa' non era un escamotage tra virgolette quello della della terapia musicale per far sì che Arthur cantasse Statizia cantasse ma cioè a livello di immaginazione perché me li fate cantare in contesti reali e quindi questo fa sì ragazzi che sia tutto un po' da what the fuck cioè da perché di sì la questione musicale poteva avere un senso perlomeno io l'avevo trovato in quel modo il senso ragazzi poi ti si smonta comunque tutto perché sti due così a volte anche a caso si mettono a cantare senza che ce ne sia tra l'altro bisogno perché veramente ragazzi in certi momenti ste canzoni t'allappano soltanto veramente ti sgretolano i coglioni mo lasciatemelo dire anche perché sono comunque molto frequenti in contesti in cui veramente ragazzi non c'entrano una mazza cioè ci stanno certi momenti che sono magari anche possono essere visti anche come importanti a livello di trama a livello di relazioni fra i personaggi e si mettono a cantare e ti dicono non è possibile non è possibile e arriva ragazzi a un certo momento della fine del film in cui Arthur dice a Harley basta non voglio più cantare smettila di cantare e io ero del tipo oh finalmente però a tipo a meno penso di 5 minuti o 10 minuti dalla fine del film ragazzi solo in quel momento ti dici oddio finalmente l'ha detto non ci posso credere si è scippato pure lui le palle di stare lì a cantare così completamente random completamente a caso e quindi da parte musical regà bocciata alla grandissima io credo che soltanto un momento di una canzone mi sia piaciuto un momento in cui fanno una sorta di show e c'è lei al pianoforte e c'è lui che balla il tip tap e quindi lì ecco lì è veramente un contesto da musical perché ci sono un po' tutti che ballano e cantano e quindi forse è stato l'unico momento fra le varie canzoni che mi ha convinto un pochettino di più però per il resto completamente no dopo per quanto riguarda quindi ragazzi la storia come vi dicevo grossa delusione anche se ci sono un paio di momenti nel film che mi hanno fatto sperare che poi il film veramente ingranasse e prendesse un'altra piega momenti in cui viene fuori più la parte joker di Arthur Fleck momenti in cui veramente vedi quello che avresti voluto vedere in questo film c'è un joker completamente sicuro di sé convinto di sé senza più dubbi senza più remore che agisce basta perché è quello joker ragazzi momenti in cui si crea il caos e lì proprio quella è stata forse la mia scena preferita in assoluto del film ragazzi il momento in cui lui torna dal tribunale entra nella mensa dove ci sono tutti gli altri internati di Arkham e tutti quanti cominciano ad acclamarlo alcuni si mettono a canticchiare salgono sui tavoli lui sale sul tavolo come ad esempio se era visto nell'ultimo film ragazzi che si prende tutto il merito dalla folla quindi lui sale sul tavolo per prendersi il merito delle sue azioni per quanto folli appunto e si crea questo caos incredibile nella mensa in cui le guardie devono anche portare via degli internati perché si sta creando un macello ragazzi e quella è stata la mia scena preferita in assoluto mi ha fatto venire i brividi perché mi sono detta cazzo scusate la parolaccia ma lo dovevo dire questo è joker questa è l'idea di joker joker porta con sé il caos la follia proprio quello rega la quintessenza proprio della bellezza di qualsiasi cosa per questo quella scena mi ha fatto sperare veramente che il film prendesse un'altra piega un'altra piega che purtroppo non è mai arrivata poi tra l'altro ragazzi questo rapporto questa relazione fra di loro che pure boh non lo so non mi ha trasmesso nulla molto scialbo pure il rapporto fra di loro e la presenza del personaggio femminile può essere ragazzi allora siccome comunque nel corso del film c'è appunto arthur che è ancora confuso non sa se vuole essere solo arthur se vuole essere joker e quindi c'è questa lotta interiore ok in arthur il personaggio femminile secondo me c'è non lo so ragazzi hanno voluto utilizzarlo per far sì che questa lotta interiore di arthur forse ancora più combattuta perché lei comunque si era innamorata di joker ma c'è una parte della persona di arthur che invece vorrebbe solo essere arthur che rinnega joker e questa un'altra parte rega estremamente deludente perché alla fine del film in cui cioè alla fine del processo in cui lui dice proprio apertamente sono solo arthur fleck è tutta una facciata non c'è alcun joker rimango solo io parole povere ragazzi cioè tu sei lì e dici cosa cosa sta succedendo che succede cioè di che mi state parlando praticamente mi avete distrutto tutto quello che è stato costruito nel primo film e questo secondo me rega è un passo assolutamente folle che fa crollare definitivamente le poche fondamenta che questo sequel già aveva ragazzi perlomeno ai miei occhi perché cioè in quel momento lì mi sono detta ma che sta dicendo cioè l'obiettivo del primo film era stato proprio quello di costruire questa figura iconica che tra l'altro era stata costruita in maniera eccelsa in maniera fighissima e me lo distruggete lo distruggono alla fine ragazzi e vanificano tutto il significato e tutto il senso che ha avuto e che ha il primo film e questo secondo me è proprio rega la ciliegina sulla torta di merda che un po' rappresenta questo film da certi punti di vista e quindi lì rega mi è caduto proprio il pezzo e mi sono detta no questo non lo dovete fare estremamente deludente ragazzi estremamente deludente per questo motivo io credo principalmente perché è come se avessero voluto rinnegare il primo film alla fine che è quello che invece rega ha incassato più di un miliardo di dollari o quanto è stato e che è stato apprezzato in una maniera incredibile per quanto comunque anche quel primo film fosse un azzardo come dicevamo e questo io non glielo posso perdonare sinceramente e non capisco perché non capisco perché farlo perché probabilmente ruotando di nuovo sempre ragazzi attorno alla questione della malattia mentale attorno al fatto che comunque Joker alla fine nelle sue retrovie tra virgolette era sempre Arthur Fleck una persona cioè un essere umano reale col suo vissuto orrendo e traumatico che magari ha cercato soltanto una scusa per superare i propri traumi i propri dolori nascondendosi dietro una maschera però nel primo era aveva deciso cioè rega quello sguardo finale che si vede nel primo film a me fa intendere ho deciso io non sono più Arthur Fleck sono Joker mi sono rotto le palle di essere Arthur Fleck e di subire 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 nella mia vita no d'ora in avanti sono Joker mi ribello sono il caos sono folle faccio quel che più mi passa per la testa qua invece ragazzi appunto ci ripresentano non Joker ma Arthur Fleck in tutto e per tutto tra l'altro perché purtroppo nel corso del film subisce anche tanti maltrattamenti in diversi momenti in diversi modi e quindi vedi questo personaggio che aveva trovato il suo riscatto diventando Joker alla fine del primo subire in una maniera atroce ragazzi di nuovo come se non si fosse mai trasformato in Joker come se non avesse mai deciso di ribellarsi ai maltrattamenti all'abbandono al tradimento a qualsiasi cosa e questa cosa secondo me ragazzi imperdonabile perché hanno distrutto quello che questo personaggio era diventato e non capisco perché tra l'altro poraccio perché c'è sta regà arriva un certo momento che te dici basta vi prego finitela di farlo soffrire te fa proprio pena credo che fosse voluto ovviamente però ingiusto ingiusto il trattamento che hanno riservato a questo personaggio in questo sequel ragazzi e sembra quasi che sia diventato anzi anche più scemo del primo scemo tra molte virgolette cioè che sembra quasi che sia diventato anche più debole di come era nel primo film e questa cosa dispiace perché è ovvio che è voluto è ovvio che ci hanno giocato sopra ragazzi vogliono comunque probabilmente questa è anche una sorta di critica al sistema alla società per carità divina però cioè già mai criticato abbastanza la società nel primo magari costruiscimi qualcos'altro in qualche altro modo se vuoi costruire una nuova critica fallo in un altro modo cioè non far subire di nuovo a sto povero Cristo tutti questi maltrattamenti invece no e dopodiché ragazzi quindi alla fine dei giochi tra l'altro questo film ragazzi sembra essere lui un sottone per quanto riguarda la relazione diciamo perché lui si fa condizionare estremamente da quello che dice Harley sembra vivere ormai soltanto solo ed unicamente per questa relazione quindi comunque si discosta estremamente ragazzi da quella che è la loro relazione nei fumetti che conosciamo benissimo una relazione tossica per carità divina però Joker era sempre la figura primaria come dicevamo prima e in questo caso invece sembra quasi un sottone ragazzi un sottone che non vuole essere lasciato alla fine perché va bene si ok ci ricolleghiamo i suoi traumi d'abbandono tutto quello che vogliamo però c'è pure con questa relazione sto personaggio me l'hanno distrutto praticamente ancora di più anzi forse anche umiliato oserei dire perché alla fine del film ragazzi lui riesce a fuggire viene liberato dalla gente che lo sosteneva e quando scappa speravo che alla fine sinceramente ci fosse un cambio repentino improvviso nella sua mente dicesse basta mi sono rotto le palle voglio essere Joker diamo il via al caos no lui scappa alla fine ragazzi per andare da lei ok e tra l'altro lei lo molla pure perché quando lui confessa non c'è nessun Joker sono solo Arthur Fleck lei lo molla ragazzi delusissima perché perché lei si era innamorata della figura di Joker secondo me principalmente dell'idea appunto di Joker ritorniamo sempre su quel discorso lì ragazzi e quindi lo molla pure tra l'altro quindi cornuto e mazziato perché era riuscito a scappare va da lei per fuggire insieme ma lei lo molla e lui neanche due secondi dopo viene ricatturato di cornuto e mazziato e vabbè e quindi ragazzi il finale che dire del finale sono rimasta di merda estremamente di merda pure da sto punto di vista perché alla fine ragazzi lui nonostante tutto quello che ha subito nel corso di questo film viene anche ammazzato ebbene sì non me l'aspettavo perché sinceramente non me l'aspettavo è stata una cosa veramente inaspettatissima ma viene ammazzato da un altro internato di Arkham che nel corso del film comunque fanno notare ogni tanto sia particolarmente interessato a lui in un certo qual senso in un modo malato ovviamente e alla fine sembra tanto ragazzi quella specie di maniaco che dice ah vedi io mi prendo il merito di aver ucciso Tizio perché comunque lui era diventato particolarmente famoso ovviamente e quindi alla fine questo psicopatico che come si definisce lui lo pugnala ragazzi diverse volte e c'è questa appunto inquadratura finale che si stringe che si stringe comunque sul volto di Arthur e io mi son chiesta sarà davvero morto non sarà davvero morto sembra di sì ovviamente ma magari ho detto magari che ne so momento ipotetico arriva qualcuno che riesce a salvargli la vita in qualche modo però chissà ti lasciano con questo dubbio e c'è tra l'altro questo piccolo dettaglio che si nota in questa inquadratura finale di questo tizio che lo ha pugnalato che sta seduto dietro quindi in secondo piano e si vede sfocato e usa questo coltello che è usato per ucciderlo per sfigurarsi e si nota dal movimento ragazzi che fa proprio in modo di tagliarsi la faccia di farsi un sorriso sulla faccia con il coltello a me questa cosa mi ha incuriosito parecchio perché raga quale personaggio conosciamo che aveva ritagli sulla faccia che gli facevano un sorriso il Joker di Heath Ledger io non so se questo è stato voluto come omaggio a lui come tributo a lui o comunque come tributo a lui perché comunque il Joker di Ledger ragazzi era un Joker completamente diverso era un Joker veramente sì psicopatico lo potremmo definire un Joker veramente Joker nel vero senso della parola criminale calcolatore organizzatore e appunto anche spostato quindi malato di mente e quindi magari vuole essere stato un tributo a lui al fatto che poi ci si ricollega sempre ragazzi al discorso dell'idea di Joker che quindi questo tizio lo uccide e viene tipo catturato da questa idea di essere folle anche lui e quindi di disegnarsi questo sorriso sul volto come Joker effettivamente e quindi chissà ragazzi anche se questo vorrà essere uno spunto per fare un terzo film io sinceramente di cuore spero di no perché prima di tutto se non ci dovesse essere più Phoenix non ha senso secondo luogo lasciano ragazzi pure questo dubbio sul fatto che lei fosse incinta o meno perché lei gli aveva mentito tra l'altro all'inizio quindi ti lasciano col pensiero che lei è una bugiarda e ad un certo punto gli dice guarda che io aspetto tuo figlio aspetto un bambino perché loro avevano avuto un rapporto quando si erano visti e quindi insomma nella sua ultima canzone lui dice spero che ci sia insomma mio figlio il mio erede che segua le mie orme una roba del genere e quindi non so se questi vorranno essere degli spunti per fare un possibile terzo film ma visto ragazzi tutto ciò viste queste premesse io spero sinceramente di no questo finale mi ha lasciato molto delusa perché cioè lo fanno morire così senza aver avuto la possibilità davvero di riscattarsi come era successo alla fine del primo e senza aver avuto quindi la possibilità di diventare davvero quello che tutti noi ragazzi volevamo diventasse Joker a tutti gli effetti sì lo hanno inserito in alcuni momenti in questo film ma io ho visto molto di più Arthur Fleck un Arthur Fleck debole stanco arreso ecco alle ingiustizie della vita non so perché abbiano voluto sinceramente costruire questo sequel questo personaggio così dopo l'epicità del primo non gli hanno reso affatto giustizia ragazzi ed è un gran peccato alla fine lo fanno morire in questa maniera così misera che ovviamente ti fa anche pena ma io credo che fosse voluto anche questo ma perché la domanda l'unica grande domanda ragazzi che mi rimarrà in testa è perché perché costruire questo film così perché ricostruire questo personaggio così perché ribadire per l'ennesima volta quello che era già stato detto e ribadito nel primo film e questa volta non dargli la possibilità neanche di farci niente cioè il fatto di subire 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 e questa volta però decidere di non ribellarsi ma di arrendersi semplicemente come se le ingiustizie e il mondo là fuori dovessero essere per forza più forti non è giusto ragazzi e quindi mi chiedo perché io credo ragazzi di aver parlato veramente tantissimo però su questo film ne avevo tanti di pensieri da esprimere non so neanche se li ho espressi tutti e se sono stata abbastanza chiara ragazzi riguardo un po' tutto quello che l'aspetto generico del film penso di sì spero di sì spero che abbiate capito insomma tutto quello che intendevo che credo per me rimanga un grande no per la maggior parte sono uscita dal cinema molto delusa ragazzi molto delusa e molto triste anche da certi punti di vista penso che userò le stesse parole che hanno usato tante altre persone un'immensa occasione sprecata quindi ragazzi io direi che dopo così tanto tempo questa recensione può finire qua come sempre ragazzi fatemi sapere qua sotto in commento voi che cosa ne avete pensato ovviamente se avete già guardato il film quali sono state le vostre impressioni riguardo questo sequel e se avete delle chiavi di lettura diverse perché sicuramente tante menti fanno tante chiavi di lettura diverse quindi sono molto curiosa di sapere quali possono essere state anche le vostre interpretazioni dei vari aspetti di questo film questa recensione termina qui grazie a tutti un bacione e obdoscio a tutti i ragazzi da giocherina ciao grazie a tutti i ragazzi